Pitu Lozada, tre volte campione del mondo nel padel. Tu, Pitu, vieni dalla Spagna. Come hai conosciuto il padel? Come hai conosciuto il padel? Conosci il padel nel club di tennis dove mi allenavo, a Madrid. Allì costruirono sette pistas di padel e di muro. Avevano costruito i sette campi da padel che ancora erano con il muro, con la parete, non erano con il vetro. Ok, quindi i campi primordiali. Sì. E il tuo ricordo più bello nelle tue varie vittorie, nei tornei che hai giocato? Il ricordo più bonito delle tue vittorie del torneo. Come sono. Sobretutto i campionati del mondo. Il campeonato del mondo, qui è stato in Canadà, è il campionato del mondo di selezione e anche per parecchie. E poi anche una vittoria importante per la del campeonato del mondo in Cancun, in México. Soprattutto le vittorie più belle sono state quelle dei mondiali. A Canada sia individuale, cioè doppio, sia come squadra che avevano vinto, e poi anche a Cancun, il terzo titolo mondiale che ha vinto. Il padel in Spagna è il secondo sport più praticato. Pensi che anche in Italia possa sfondare? Soprattutto il padel in Spagna è il secondo sport più praticato dopo il futbolte. Creesi che in Italia può arrivare a questo punto? Io credo che può, ma ancora troppo, ma c'è molto cammino. Ci sono di più piste, in altri club di tenis come questo, di tradizione, hanno che vedere un po' quello che ha fatto in Spagna, che ha stato... il padel ha aiutato molto per che sia integrata la famiglia nel club e che juegono in tutti, la moglie anche sta jugando molto padel e questo è un èxito con il deporte. Credo che c'è ancora molto cammino, molto da fare qua in Italia, costruire più campi per sviluppare questo sport, fare ovviamente giocare anche le donne, che in Spagna giocano tante, e svilupparlo. Secondo te per chi è indicato? Secondo tu, per chi è consigliato questo deporte? Per tutto il mondo, puoi giocare con gente maggiore, che non puoi giocare a una pista di tenis perché è più grande, e i bambini... È consigliato a tutti, anziani, bambini, che magari in un campo di tenis fanno più fatica a giocare, qua è molto più semplice, il campo è più piccolo. La moglie, per esempio, è un produttore molto importante in Spagna, gente che non ha fatto deporte, è in edizio scolar, e hanno incontrato nel padre un deporte facile e agradecido, dove possono socialmente anche tenere il suo ritorno e sentirsi bene come deporte. Le donne sono un punto importante in Spagna, perché tante che non facevano magari sport dalle anni dalla scuola hanno ripreso l'attività fisica con questo sport e giocano tanto, tanto, tanto. Un'ultima domanda, un po' più di gossip. Si dice che dal prossimo anno Nadal dovrebbe iniziare a giocare a padel, cioè il padel quindi può essere un po' un'ultima spiaggia, un Eldorado per il tenis che smetto, no? A livello professionale. Bueno, e ora un rumor che dicono che Rafa Nadal desde l'anno prossimo jugarà al tour professional di padel. Creesi che può essere una... Creesi che è vero? E se credi che è il plan B per i tenisisti quando dejan di competire come professionali, diciamo. No, non credo che sia certo questo. De Nadal. Credo che era una notizia che c'è da l'anno del 28 di dicembre, che è... In Spagna si chiama il Dio dei santos inocenti, facendo bromas. E, dopo, i tenisisti che giocano non suelen essere gli che hanno arrivato così alto a livello individuale nel ranking, se no, altri che si ritirano antes e cambiano il deporte perché... Come è il tuo caso? Sì. Non credo che sia vero quello di Nadal sicuramente uno scherzo per il giorno dei inocenti, diciamo. Non crede in questo. E poi dice che i tenisti, quelli che hanno smesso di giocare come professionisti e poi hanno iniziato al padel non sono arrivati così in alto. Invece quelli che hanno smesso prima al tennis hanno imparato a giocare proprio la tecnica di padel, come per esempio il suo caso, che ha smesso ai 19 anni. Fanno molto meglio. Va bene, grazie. Grazie a tutti.